benvenuti su tg7 basilicata la task force regionale comunica che ieri 2 febbraio sono stati processati 789 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da covid 19 di cui 68 tutti riferiti a persone residenti in basilicata sono risultati positivi sono due le persone decedute ieri un residente a grumento nova e uno a lavello sono 13.189 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in italia su 279.000 tamponi effettuati con un tasso di positività del 4,7 per cento le vittime sono 476